bellissime vuol dire che è proprio il genere di musica che ascoltano queste due ragazze il flow, si sente dal flow che hanno 1, 2, 3, 4 game over, game over aspetta quella non suona, il cavo il fiore oggi si ripete bad boy bass bad boy bass bad boy bass bad boy bass vedete? fare il dj si guadagna un sacco di tonni è l'altro che mandato a scuola, vai studiano dj dj di delore bad boy bass bad boy bass bad boy bass Buon appetito!